posso vedere le vostre case ma certo vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi o del piccolo castello o venire a casa mia dov'è casa tua fragolina io e violetta viviamo nel villaggio delle fate mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate d'accordo seguitemi siamo arrivati ecco il villaggio delle fate wow e vivete dentro questi funghi velenosi una volta vivevamo dentro funghi commestibili ma la gente grande li raccoglieva nessuno mangia i funghi velenosi non c'è la porta d'ingresso sì che c'è è una porta magica prima devi bussare i tre volti poi girare su te stessa e dire apriti sesamo visto buongiorno a tutti buongiorno ciao paparino il mio papà è il sindaco delle fate sì e sei arrivata giusto in tempo per la riunione quale riunione riunione straordinaria riunione straordinaria come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato due adulti una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic come tutti voi sapete la gente grande è molto pericolosa può dirlo forte hanno addirittura calpestato mio nonno e hanno mangiato la mia casa quindi dobbiamo fare attenzione e se qualcuno di voi vede la gente grande suoni subito l'allarme io l'ho vista è come una di loro cosa dove chi io io sono una di loro la gente grande qui suonate l'allarme la gente grande a loro non piaccio non preoccuparti luci non è colpa tua se fai parte della gente grande ora comunque fai parte della gente piccola eccole in testa lo sciame ce l'ho pericina le altre la seguono ovunque vada ottimo finalmente stanno rientrando nell'alveare ora possiamo rilassarci è tornato tutto alla normalità allora ditemi ben e holly che cosa possiamo fare per voi vogliamo vedere come le api creano il miele benissimo siete venuti nel posto giusto questo è l'alveare e io invece sono l'apicoltore ci serve un barattolo di miele per il re non c'è problema quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo e questa la porta fermati tata susina non puoi certo entrare come se nulla fosse ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna il suo pungiglione non saranno contente se cercheremo di portare via il loro miele cosa facciamo allora innanzitutto dovremmo far addormentare le api come beh ecco utilizzando la magia ma io credevo che tu detestassi la magia infatti è così ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api infelocite sono disposto a fare uno strappo alla regola chi farà l'incantesimo ma qualunque vecchia fata ne è in grado tata susina lanceresti un incantesimo del sonno per me con piacere no tata non era per il vecchio saggio era per le api oh ma perché è sempre così sibillino e cosa 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 mi è successo stavolta cerca di essere chiaro tu vuoi che faccia dormire le api non è vero se per te non è un grande problema ora dormono tutte ottimo in questo modo saremo molto più al sicuro presto entrate tutti in casa chiudete bene porte e finestre oh hai visto ci sono delle piccole finestre in questi funghi molto bene venite tutti qui bambini sì signorina biscotto quelli sono dei funghi velenosi spuntate funghi velenosi dalla lista funghi velenosi signorina biscotto i funghi velenosi hanno delle piccole porte e finestre? eh no andiamo a vedere un luco oh Lucy ci è mancato poco sì ma per stavolta ce la siamo cavata ora sulla nostra lista c'è una quercia forza andiamo a cercarne una oh no stanno andando dritti dritti al grande albero degli elfi dobbiamo arrivare lì per primi gente grande gente grande stanno venendo qua gente grande gente grande entrate tutti nell'albero arrivano chiudete le persiane bene ora sembra un normalissimo albero oh guardate c'è un omino in quell'albero eccoci qua potete riconoscere una quercia dalla forma delle sue foglie scusi signorina biscotto abitano degli omini nelle querce cosa? ma certo che no potete spuntare quercia dalla vostra lista ragazzi quercia! uff ci ha mancato poco è vero pochissimo bene la prossima voce nella lista è insetti da questa parte bambini oh oh guarda stanno andando dritti dritti al piccolo castello dobbiamo arrivare prima noi aspettatemi papà papà sta arrivando la gente grande gente grande? presto tata chiudi le finestre bene gastone! caro gastone il mio migliore amico aiutaci ti prego siamo intrappolati gastone corri subito a chiamare tata susina da dam di dam di du fatto ora è di nuovo tutto pulito no gastone fuori fuori che cosa? ben ollie il re la regina il signore la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera? presto non c'è tempo da perdere portami là gastone c'è qualcuno? tata susina grazie al cielo sei qui siamo intrappolati ora vi libero ci vorrà solo un attimo aprirò la porta con la magia oh non ha funzionato no perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani l'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda quale domanda? un aereo vola a 300 chilometri all'ora quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? questa porta mi prende in giro tata fa apparire una vanga e tiraci fuori ci impiegherò dei secoli ci sono gastone ce la farà in un attimo certo gastone è il più bravo di tutti a scavare gastone vecchio mio aiutaci a uscire vuole che diciate per favore oh per favore gastone oh per favore gastone oh per favore gastone oh per favore gastone al salvataggio ti ringrazio gastone adesso sollevate qui i sassi per favore ora provate a muoverli in avanti com'è difficile ora all'indietro quando batterò le mani a terra eccellente e adesso per concludere una semplice domanda la magia deve essere usata solo per motivi seri oppure per divertirsi? la risposta è la magia deve essere usata solo per motivi seri giusto tutte voi avete passato l'esame di magia urrà e io sono di nuovo la signora elfo ora potete abbracciarmi i miei complimenti bambine ecco qua le vostre licenze firmate da me il capo esaminatore sapevo l'avrebbero superato hanno imparato da me già questo rende il loro successo ancora più straordinario grazie vecchio saggio elfo qualcuno di voi ha voglia di festeggiare? oh sì possiamo fare una festa e quello che ci vuole per una festa è gelatina magica ah tata susina non credo che sia il caso gelatina magica ancora e ancora inondazione di gelatina inondazione di gelatina per dindirindina forse ho usato un po' troppa magia insomma tata susina tu hai la licenza magica sì o no? ma certo che ce l'ho oh bene questa purtroppo è scaduta che cosa significa? significa che oh non vale niente quindi non posso fare magie? no è contro la legge lo sai? nessuna pata adulta può fare magie senza una licenza cosa? sono costretto a requisirti la tua macchina oh questo non lo puoi fare l'ho appena fatto è un oltraggio il re sarà molto arrabbiato oh 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 una delle stelle si sta muovendo forse è una stella cadente oh sì la vedo anch'io sta per schiantarsi a terra wow è precipitata qui vicino andiamo a dare un'occhiata guardate è qui che la stella è caduta ha fatto un buco enorme è davvero incredibile e avete visto quel fumo? deve essere molto calda forza scendiamo voglio vederla da vicino no torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata che bello è mattina Pauli la colazione non ho tempo papà una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera che bello è mattina Ben non vuoi fare colazione? più tardi mamma devo andare a vedere la stella cadente ciao Ben ciao Ollie wow cos'è che ha fatto questo buco? una stella cadente è precipitata dal cielo che meraviglia allora avete visto come è fatta questa stella cadente? non ancora ma stiamo per scoprirlo vostra maestà abbassare la chela la stella ha le finestre che cos'è? un'astronave? sembrerebbe un disco volante il portello si sta aprendo niente panico per ora ma questa potrebbe essere un'invasione aliena blup ah invasione aliena invasione aliena potete farvi prendere dal panico blip blup blip blip ci sarà sereno e soleggiato ovunque guardate Riccardo Gastone si sente molto meglio splendido la sterlina dei folletti ha innetto il basso rispetto al dollaro che mantiene Gastone dice che questo programma è un po' noioso vorrebbe cambiare che ne pensi di questo? non va bene è troppo rumoroso questo programma è perfetto la vedi papà? Gastone ora non sternutisce più allora visto che sta meglio potrebbe tornare a casa sua no? ma papà Gastone non può tornare alla sua tana finché la perdita non sarà riparata potrebbe ammalarsi di nuovo e sarebbe molto triste già e non vogliamo che Gastone sia triste Gastone dice che voi siete il re più gentile che esista al mondo grazie Gastone magari andrò a vedere a che punto sono gli elfi con la tua tana salve vecchio saggio quanto ci vorrà perché sia finita? come diciamo noi costruttori non bisogna mai avere fretta in certe cose beh, un po' di fretta non può fare alcun danno mi dispiace temo che ci siano parecchi problemi da risolvere vostra maestà probabilmente è un'idea sciocca ma avete provato a spostare quel sasso sopra il buco? avete ragione è decisamente un'idea sciocca ma forse vale la pena di tentare con tutto il rispetto vostra maestà ognuno sa come fare il proprio lavoro voi siete il re e io il costruttore naturalmente ciao Tata Susina cosa vuoi Ben? adesso non ho tempo di aprire la porta a un elfo Ollie può venire fuori a giocare? temo che la principessa Ollie sia troppo occupata ora ciao Ben ciao Ollie guarda, ho un orologio nuovo wow ed è un orologio vero? certo senti il suo ticchettio lo sento sai dirmi che ore sono Ben? non ancora ma oggi a scuola ci insegneranno come si legge l'orologio davvero? allora non vorrai certo fare tardi io sono un elfo e gli elfi non fanno mai tardi ciao Ollie ciao Ben vorrei tanto avere anch'io un orologio a cosa ti servirebbe principessa Ollie? se io avessi un orologio potrei sapere che ore sono noi fate non abbiamo bisogno di orologi abbiamo altri modi per sapere che ore sono quali altri modi Tata? per esempio abbiamo i denti di leone eccone qui uno e come fa un dente di leone a dirci l'ora esatta? bisogna contare quanti suffici vogliono per spazzare via i suoi semi si fa così guarda uno due tre ci sono voluti tre soffi il che significa le tre in punto voglio provare anch'io uno significa l'una in punto wow vuoi dire che è veramente l'una in punto? no in realtà no è solamente un gioco però oggi Ben imparerà davvero a leggere l'orologio posso andare a scuola anch'io va bene ma sono sicura che non ti divertirai allora quando la lancetta grande e anche la lancetta piccola sono posizionate in questo modo significa che sono le dodici in punto io sto costruendo una macchinina io sto costruendo una paperella io invece ho un elicottero io ho una barchetta io sto costruendo un bel rospo io ho un coniglietto io sto costruendo un robot vedo purtroppo che la principessa Ollie non ha un giocattolo ma non importa ne faccio subito apparire uno bacchetta magica muoviti così e fa subito apparire un bel giocattolo qui principessa usare la magia non è permesso qui nella nostra scuola solo perché gli elfi non sanno usare la magia gli elfi potrebbero usare la magia se volessero farlo ma gli elfi non vogliono usare la magia e noi siamo elfi principessa puoi cominciare a lavorare su questo gufo giocattolo per oggi va bene? ti ringrazio vecchio saggio elfo sarà meglio che prenda io la tua bacchetta per il momento così avrai occasione di imparare in quale modo lavorano gli elfi e cioè senza magia non preoccuparti potrai riaverle indietro alla fine della lezione bambini e bambine ora prendete i vostri martelli e ricordatevi di battere delicatamente ora facciamo un altro gioco va bene ti va a nascondino? d'accordo allora giocheremo a nascondino iuppi! io adoro giocare a nascondino però non potrai usare le tue ali va bene non userò le mie ali uno due tre non sbirciare va bene quattro cinque sei sette otto nove dieci arrivo che tu sia pronto ben si è nascosto bene non è qui e non è nemmeno qui ben mi dai un indizio ti prego acqua 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 fuochino fuocherello fuoco è quasi un incendio ti ho trovato ma non c'è nessuno qui acqua questo gioco è molto noioso ho di meglio da fare che star qui a perdere il mio tempo eccomi qua ti ho trovato era un ottimo nascondiglio vero Ollie? non era niente male si hai ragione gli elfi sono molto bravi a nascondersi e io sono un elfo tocca a me nascondermi ma ricorda devi seguire le regole non usare le ali è proibito non userò le ali te lo prometto guardate ho una lumaca Ollie perché non provi a chiederglielo tu questa volta? però dovrai alzare un pochino la voce perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene come mai non sentono bene? perché loro non hanno le orecchie Tata non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso non sarebbe corretto buongiorno signora lumaca più forte buongiorno il mio papà il re non sta bene abbiamo bisogno della sua bava soltanto un po' per farlo stare meglio le dispiacerebbe se la mettessi in questo barattolo per piacere credo che abbia detto di sì la ringrazio è stata molto gentile ottimo lavoro Ollie adesso controlliamo la lista goccia di rugiada ecco la Tata bava di lumaca ecco la Tata Susina e per ultimo ci occorre un rutto di rana potrebbe essere complicato lì c'è una rana Tata oh signora rana buongiorno sarebbe così gentile da fare un rutto in questo barattolo cerchi di rilassarsi stia calma oh non abbiamo tutto il giorno per far fare il rottino ai bambini si massaggia loro la schiena va bene massaggio io la schiena della rana mi sembra di sentire qualcosa urrà andiamo subito in cucina posso scendere adesso? ma certo vostra maestà guardate c'è una crepa oh no papà allora hai rotto l'uovo no guardate meglio si sta rompendo da solo si sta scudendo oh oh un uccellino ottimo adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo io posso tornare al mio lavoro guardate l'uccellino sta seguendo Tata Susina è normale perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma e la prima cosa che ha visto lui è la Tata e così crede che la Tata sia la sua mamma ma io non sono una mamma uccello il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo non ho con me del cibo cosa mangia un uccellino? vermi e piccoli insetti eh Gastone è un insetto attento Gastone forse è il caso che tu ti allontani un po' sarà meglio trovare subito dei vermi e come? usando il richiamo per vermi fate così i vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie guardate un verme è scappato via non dobbiamo darci per vinti proviamo di nuovo eccone un altro scegliete il vostro compagno per l'ultima gara di oggi la carriola sulle mani oh perbacco ben non ha una compagna senti posso essere io la tua compagna ben ti prometto solennemente che non userò la magia e non volerò no! oggi hai già combinato fin troppi pasticci ti prego ben sono sicura di esserne capace ma cos'è la gara di carriola sulle mani? ecco che tu sei Olly io sono molto brava a camminare sulle mani te l'ho detto che sono una vera ginnasta va bene allora incredibile una fata oh beh il regolamento non dice che una fata non potrebbe gareggiare ai vostri posti? pronti? via! forza Ben! forza Olly! mettetecela tutta bambini! bravo bravo abbiamo vinto! urrà! la gara è finita i vincitori sono Ben l'elfo e la principessa delle fate Olly urrà! grazie Olly! è stato un piacere Ben! chi avrebbe mai detto che una fata avrebbe vinto questo tipo di gara? io so fare anche altre cose ma è incredibile che cos'era quello? un balletto della ginnastica e anche una posa aggraziata molto brava allora ai prossimi giochi degli elfi si dovrà ballare e anche fare ginnastica e anche stare in pose aggraziate? certo! e stare in pose aggraziate? urrà! forse la principessa Olly potrà dare a tutti delle lezioni si, con piacere! tata! è tutto a posto? sì perlomeno sono asciutta le sue ali sono bagnate fra adice non può volare già quindi è bloccata su quella piccola isola tata Susina sei pronta a essere salvata ora? eh no aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi forse quell'uccello sta cercando dei vermi spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme tata Susina è in un nido di uccellini non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno ecco appunto oh no gli uccellini sembrano affamati oh, ci picchia le ali sono ancora bagnate tata Susina è un po' spiacevole ma in fondo è solo fango veramente credo che siano sabbie mobili tata Susina sta sprofondando sottoterra eh, ben sono pronto per il salvataggio adesso fantastico decolla Gastone presto sbrigati tata cerca di resistere adesso proverò a prenderti all'asso per tirarti fuori di lì è troppo pesante Gastone, tira non mollare uuuh 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 tata Susina hai un odore disgustoso beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo livello 1 la stanza dei computer un vero spasso il mio stomaco è tutto sottosupra è bello, non è vero? e pensa che sarà anche meglio la prossima volta cosa vuol dire che sarà meglio? eh eh, lo vedrai seguitemi qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli quindi non li fate così come vi vengono oh no, no, no i giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio niente mai lasciato al caso però è un lavoro un po' troppo duro per me noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione vedete? qui è dove scegliamo i colori quella lì è la bambola per Babbo Natale sì ora per farvi un esempio se voglio posso cambiare il colore del vestito della bambola da rosso farlo diventare blu vestito blu ora tutti quanti in fabbrica sapranno che devono dipingere il vestito di blu ma Babbo Natale non voleva che fosse rosso? certo che sì, principessa Ollie questo era solamente un esempio tutti a bordo prossima fermata la fabbrica degli elfi oh, ma non dobbiamo scendere ancora, vero? eh sì, tata la fabbrica è molto più in basso bisogna scendere alle radici dell'albero quanto più in basso? molto più in basso oh tutti a bordo non mi sembra che stiamo scendendo poi molto oh, aspetta Ollie prossima fermata a livello 99 tenetevi forte! oh, il mio stomaco! molto divertente! sì no? sentite le streghe non fanno assolutamente niente hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti cosa? e per quanto riguarda la magia sono del tutto innocue non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione? certo che lo so fare allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? cosa? o rendi questa poltrona più comoda? smettila subito, tata prepara ottimi dolci fa molta attenzione, ti avviso e ora rifatti il guardaroba se provi a cambiare anche solo un'altra cosa che brutto trucco mi dispiace aver dovuto congelare tata Susina è stata molto maleducata con me non aveva intenzione di essere maleducata mi deve credere, signora strega forse no però lo è stata e ora tata Susina resterà congelata per sempre? no se accetterà di chiedermi scusa la libererò tata Susina chiedi subito scusa alla strega non ne ho nessuna intenzione stavo solo cercando di aiutarti brutta Befana oh quindi non la lascerà libera, vero? no dobbiamo cercare aiuto noi due possiamo andarcene, signora strega ma certo, cara voi siete stati entrambi molto gentili con me qual è il tuo piano? correre subito dal re sì papà verrà a sgridare la strega e annullerà l'incantesimo arrivederci arrivederci e grazie tante per la sua ospitalità sì, grazie signora strega e buona giornata salve ragazzi presto, corri sì, grazie a tutti